Andiamo. Allora, cari ragazzi, cari ragazzi, siamo giunti alla lezione dedicata a una pagina importante della storia europea, della storia anche italiana. Oggi parleremo infatti dello scontro tra l'imperatore e i comuni italiani. Quando parliamo di imperatore ovviamente parliamo di Federico, Federico di Hohenstaufen, conosciuto meglio come Federico Barbarossa. Partiamo un po' dall'inizio. In realtà Barbarossa l'abbiamo già incontrato perché abbiamo detto che partecipa ad una crociata, abbiamo detto che durante la crociata addirittura muore Barbarossa. Dunque Barbarossa è un protagonista che abbiamo già incontrato. Cerchiamo di capire come si arriva però alla salita adesso al trono di Barbarossa e poi in cosa consiste questo celeberrimo scontro con i comuni italiani. Va bene? Allora, alla morte di Enrico V, che di fatto è l'ultimo discendente della casata salica dell'impero germanico, a fine avuto nel 1125, l'impero tedesco attraverso un durissimo periodo di crisi, uno scontro, uno scontro per il controllo al trono, con il controllo del trono, per la salita al trono. E questo lungo periodo di crisi è di fatto uno scontro tra i Guelfi, eh già, i Guelfi, che sono la fazione della casata della Baviera e i Ghibellini, che invece sono i partigiani, sono gli appartenenti alla fazione della casa di Svega. Dunque abbiamo in Germania uno scontro tra due casate, è un po' una storia, quello che vi racconto, tipica poi di molte altre storie di questo passaggio del Medioevo, due casate che si scontrano per il controllo della Germania. Se ci pensate poi delle saghe mondiali, la più grande serie tv mai realizzata come budget, cioè il trono di spade, ci parla poi di casate in lotta. Dunque il trono di spade è pienamente medievali in questo, no? Le casate in lotta per il potere, il trono di spade è il potere. Ne vedremo un'altra in lotta tra casate e celebrare, ma guerra tra le due rose, no? La guerra delle due rose in Inghilterra. Questa è dunque una classica guerra tra casate, in questo caso due case tedesche, la casata della Baviera e della Svevia. Dunque abbiamo uno scontro tra Guelfi e Ghibellini, guerra civile, guerra tra partigiani, guerra tra fazioni. La crisi si conclude nel 1152, la crisi si conclude nel 1152 quando l'assemblea dei principi tedeschi, cioè i principi tedeschi si radunano in un'assemblea dopo essersi scontrati, dopo essersi divisi in fazioni. La politica, ragazzi, è fazioni, il problema poi è l'unità. L'America adesso è divisa in due fazioni gigantesche. In democrazia noi istituzionalizziamo lo scontro. La democrazia è istituzionalizzare, regolamentare, dare delle regole ad uno scontro. E qui lo scontro da due partiti. Il progetto democratico di Biden, Kamala Harris, il progetto invece del pubblico di Trump, va bene? E di tanti altri. E questo scontro è tirato con l'America divisa in due. In democrazia dovrebbe essere un passaggio adesso in cui Trump riconosce la vittoria. Perché l'America ha delle regole diverse da un'Italia, è chiaro? Cioè il presidente deve riconoscere. Se non riconosce entreranno in funzione di altri organi che comunque toglieranno il potere a Trump e lo daranno al nuovo presidente, alla nuova vicepresidente. È chiaro? Dunque lo scontro poi termina con le elezioni, con un riconoscimento dello sconfitto. La rivoluzione, uno scontro, terminerà con la vittoria di uno sull'altro. Il colpo di stato è uno scontro, la guerra è uno scontro, va bene? La democrazia li proviamo a regolamentare gli scontri. Qua è una guerra civile, è una guerra che dura tanti decenni, ma alla fine di una guerra bisogna trovare ovviamente una soluzione, perché altrimenti le guerre non avrebbero mai fine, le guerre lacererebbero per l'eternità dei territori. Ma gli anni passano, i raccolti vengono distrutti, le tasse aumentano, la povertà, i morti. Cioè le guerre non sono eterne. Le guerre civili tanto meno, perché le guerre civili sono ancora di più pericolose, lo vedremo poi bene in filosofia al prossimo anno con Thomas Hobbes, filosofo appunto inglese, perché? Perché le guerre religiose non sono le guerre di noi contro altri, sempre depurevoli e bruttissime. Sono le guerre di noi contro di noi. Dunque l'altro è qualcuno di molto vicino a te, che è vicino a te nel territorio, che è vicino a te per identità, per cultura. C'è una guerra in Palestina, andavi a combattere là. Nel frattempo in Francia, nelle terre non so della Spagna, dell'Austria, nelle terre della Padana, nella terra della Provenza, non c'era la guerra. Invece c'è una guerra civile, le guerre riguardano la tua terra. Dunque la Germania è sconvolta da decenni di guerra. Al termine di questa guerra abbiamo già trovato una soluzione e i principi tedeschi si appunto riuniscono e cosa fanno? Nominano. Ecco l'imperatore eletto. I principi. Elezioni e elezioni. Non è elezione a suffragio universale maschile e femminile. Ci sono da 70 anni in Italia, figurati. Non è elezione a suffragio, non è elezione per censo, non è elezione da parte di tutti gli uomini. È un'elezione dei principi. I principi votano e nominano imperatore. Eleggono imperatore il duca di Svevia, il duca di Svevia Federico di Holmstaufen, appunto Federica Barbarossa. La sapete perché? Perché la madre di Federico Barbarossa di Svevia era del ducato di Baviera. Ed ecco il compromesso, ed ecco la sintesi, ed ecco, ed ecco, potremmo dire l'accordo. Lo ripeto, Federico Barbarossa, che appartiene alla casata degli Svevi, è eletto imperatore di Germania, ma la madre appartiene alla casata della Baviera. A me quello che interessa, perché è così che cerco di insegnarvi storia, è il ragionamento. Tra qualche mese probabilmente vi dimenticate della Baviera e della Svevia. Spero di no. Ma cosa non dovete dimenticare? Che ad esempio l'accordo lo si trova con un compromesso. Certo, un compromesso non vuol dire 50 e 50, perché chiaramente gli Svevi presentano il duca, presentano appunto Federico Barbarossa, che da duca di Svevia diventa imperatore. Ma il compromesso è il fatto che vengono riconosciute anche delle prerogative della Baviera, poiché comunque la madre di Federico Barbarossa apparteneva alla Baviera. Dunque potremmo dire che è un imperatore di sintesi tra due fazioni. Capito? Tutto chiaro? Cosa fa per prima cosa Federico Barbarossa? Fondamentale. Si dedica al consolidamento del potere dentro l'impero. Perché una volta che tu prendi il potere, e questa è un'altra lezione che spero capiate, devi mettere i tuoi uomini al potere, devi mettere i tuoi uomini nelle catene di comando, devi dunque eliminare dei ruoli importanti, dei ruoli decisionali, i tuoi avversari, o devi comunque affiancare degli altri uomini, devi appunto destituirli, devi rendere appunto poco influenti, va bene? Dunque comincia a consolidare il suo potere dentro l'impero. Ma dentro questo progetto di consolidamento dell'impero, ed ecco che arriviamo alla nostra penisola, una delle urgenze di Federico Barbarossa era l'Italia. C'è un problema in Italia. Houston c'è un problema, no? C'è una frase di un film, ok, di fantascienza americano. C'è un problema, caro Federico Barbarossa, dove è questo problema? E' in Italia, perché? Perché durante, ve l'avevo già accennato ma ci ritorno, durante questi decenni di crisi, dovuti allo scontro tra i guelfi ghebellini tedeschi, dovuti allo scontro tra la fazione della Baviera contro la fazione della Svevia, durante questi decenni i comuni italiani, che abbiamo già visto in un'altra lezione da sapere per interrogazione, i comuni italiani cosa hanno fatto? Hanno nel nord Italia, nella pianura padana, nella terra della Lombardia, un pezzo del Piemonte, dell'Emilia, del Veneto, hanno preso autonomia, hanno cominciato ad acquisire larghi margini di autonomia, cioè si sono sottratti al potere tedesco, autonomia dei comuni italiani, organizzazione nata dal basso, nata dal basso, l'imperatore invece è dall'alto, Dio e i principi ti nominano, invece i comuni sono un prodotto dal basso, dunque un'alleanza sul territorio, vanno detto, di commercianti, di proprietari, di notai, di una serie di figliberi professionisti, i comuni hanno preso autonomia. Ed eccoci qua alla celeberrima prima spedizione di Federico Barbarossa appunto in Italia. Federico Barbarossa, che appunto in Italia sarà dominato Barbarossa, discese nella penisola italiana nel 1154. Dunque nel 1154 vi è la prima spedizione, la prima discesa di Federico Barbarossa in Italia e ha un programma molto molto preciso. Vuole farsi nominare re d'Italia e vacante la corona di re d'Italia, la corona di re d'Italia la vuole. Barbarossa vuole la corona del re d'Italia e così facendo vuole il controllo delle città, dei comuni, del nord e del centro. Recuperando che cosa? Qua ve lo annotate, è un po' una delle parole chiave di questa lezione di oggi. Recuperando, cioè volendo recuperare le cosiddette regalie. Cosa sono le regalie? Le regalie sono i diritti dell'imperatore. Domanda per settimana cosa sono Giulia le regalie? Giulia è una delle tante in questo caso. Le regalie sono i diritti, le prerogative dell'imperatore. Ed erano quali tali prerogative? Recuperare le tasse. Negli ultimi anni i comuni italiani non versavano più le tasse o le versavano molto di meno all'impero tedesco. Ma come? I comuni della penisola italica non mi pagano più le tasse. Se non mi pagano più le tasse vuol dire che non mi riconoscono sovrano sul loro territorio. Dunque la prima regalia da recuperare è appunto il pagamento delle tasse. Le tasse vengono versate all'impero. Poi dopo una parte saranno per il comune. C'è una distribuzione che la dà all'impero e poi l'impero le redà al comune. Dovono pagare delle tasse all'imperatore e delle tasse per il comune. In questo caso le tasse all'imperatore non arrivavano più. Dunque prima regalia recuperare le tasse. Seconda regalia è battere moneta. Battere moneta, ora batte monete in Europa la banca centrale europea, batte monete in America la Federal Reserve, batte monete in Cina la banca di Stato cinese. Battere moneta, cioè stampare moneta, cognare monete d'oro, era una prerogativa dei re, era una prerogativa dell'imperatore. In realtà in Francia, in Inghilterra c'erano anche molti altri nobili, conti, duchi, marchesi, che battevano moneta. In Italia chiaramente poteva poi battere monete le varie signorie, quando arriveremo le signorie. Adesso batteva moneta l'imperatore, ma in questi decenni di guerra tra la Baviera e la Svevia cosa è accaduto? È accaduto che molti comuni o molte aree dell'Italia hanno cominciato a stampare, a battere moneta senza passare per l'imperatore, per la Germania. La seconda regalia è appunto questa, battere moneta. Poi c'è tante altre, stipulare trattati, regolamentare anche i passaggi, gli accessi sulle proprietà. L'imperatore Federico Barbarossa vuole riprendersi le regalie che i comuni di fatto gli hanno tolto. Dunque i comuni avevano usurpato le regalie. Dunque l'obiettivo è reinstaurare la supremazia imperiale in Italia e andare a togliere l'influenza del Papa su molti comuni italiani, perché nel vuoto di potere sono nati i comuni. Ma molti di questi comuni nel Piemonte, nella bassa Lombardia, si erano anche poi legati al Papa. Ma io vi ricordo che la forza del Papa non è tanto una forza di armi, la forza del Papa è la forza dello spirito e vi assicuro che in molti casi la forza dello spirito è più importante di quella delle armi, perché la forza dello spirito fa sì che alcune persone si possano convincere spiritualmente di compiere alcune azioni. Dunque se tu controlli l'anima, se tu controlli lo spirito puoi controllare di conseguenza le persone. Controllare non vuol dire l'ipnosi, vuol dire il convincimento, la cultura, vuol dire appunto un'adesione a un'ideologia, a una visione di mondo. Dunque il papato dà un appoggio che non è un appoggio ovviamente militare, è un appoggio spirituale, un appoggio politico, è chiaro? Dunque la supremazia dell'imperatore Federico Barbarossa in Italia implicherebbe dunque una ricacciata, una sconfitta del potere, del potere papale, va bene? La corona imperiale deve tornare a risplendere nell'Italia del nord e del centro. Si fa incoronare la discesa, una discesa imponente, una discesa militarmente difficile da contrastare e a Pavia Barbarossa si fa incoronare imperatore e convoca vicino a Piacenza, a Roncaglia, scrivetelo bene, una dieta, una dieta, una dieta con tutti i comuni italiani. Dieta deriva dal latino dies che vuol dire giorno, l'assemblea del giorno. Una dieta, un'assemblea del giorno a cui partecipa l'imperatore e a cui partecipano tutti i rappresentanti dei comuni. Durante quella dieta l'imperatore fa dichiarare nulle le regalie che i comuni avevano ottenuto. Dunque durante quella dieta toglie le regalie ai comuni, fa dichiarare appunto nulle le regalie di cui i comuni si erano appropriati. Le regalie che avete, di cui si appropriati, non valgono più. Ma i comuni, i rappresentanti dei comuni, si oppongono. I rappresentanti dei comuni, va bene, dicono di no. E Federico Barbarossa è colto in contropiede perché dopo essersi fatto proclamare imperatore, va bene, non ha a suo fianco tutto un esercito, un apparato militare pronto alla guerra. È convinto che a Roncaia, vicino a Piacenza, i comuni avrebbero accettato la sua linea politica. Invece così non accade. E allora Barbarossa deve prendere tempo. Fa una breve azione dimostrativa, soprattutto in Piemonte, in Lombardia. Poi dopo scende a Roma, sostiene il Papa in un scontro con un potere comunale guidato da Arnaldo da Brescia, non importa. E poi dopo la cosa importante, va bene, è questa. È che Federico Barbarossa comincia a covare la grande vendetta contro i comuni. Federico Barbarossa abbandona infatti l'Italia, ritorna in Germania e, tornato in Germania, comincia a capire due cose. Ve le presento. In primis capisce che la Sicilia, il Regno di Napoli, a cui Federico Barbarossa ambiva, in questo momento non sono conquistabili. Lui avrebbe voluto conquistare tutto il nord e centro, accordarsi con tutta la serie di poteri italiani per poi andare all'attacco dei normanni che governano il sud Italia. Ma non ci sono le condizioni, perché comunque c'è da mantenere saldo il potere in Germania, c'è l'opposizione forte dei normanni e ci sono i comuni italiani che hanno appunto dimostrato forza, riottosità contro Federico Barbarossa. Federico Barbarossa capisce che di fronte a così tante conflittualità ne deve cominciare a risolvere una e la risoluzione cade ovviamente sui comuni italiani. Deve riportare nell'alveo dell'impero, deve riportare nell'alveo dell'obbedienza appunto i comuni italiani. I comuni italiani. E allora 1158, seconda spedizione in Italia. Questa spedizione è durissima, arriva con un esercito molto forte, con un apparato militare molto forte e incendia, distrugge, conquista diversi comuni italiani e Arroncaglia impone una seconda dieta con la quale ovviamente impone mano militare, cioè impone con la forza, l'obbedienza, la sudditanza di tutti i comuni italiani. Cioè le regalie vengono tolte i comuni italiani questa volta con la forza. Va bene? Mette in ogni comune italiano conquistato, mette un suo governatore di nomina dunque imperiale, toglie coloro che governavano i comuni e mette a capo dei comuni, mette a controllare i comuni, un proprio uomo. È una lezione di potere molto forte. Va bene? È una lezione di potere molto forte. Di fronte a questa violenza, la Chiesa con il Papa Alessandro III si oppone durissimamente a Federico Barbarossa e appoggia i comuni italiani. Alessandro III viene nominato pontefice e viene nominato pontefice anche perché è ostile ai tedeschi, è ostile a Federico Barbarossa, è ostile dunque al potere imperiale. Dunque si viene a creare un distacco molto, molto, molto forte tra l'imperatore e il papato. Addirittura cosa fa Federico Barbarossa? Nomina lui un papa, un papa suo, una sorta di antipapa, lui che si arriva ad uno scontro veramente senza precedenti. A questo punto è così, i comuni si dividono, i comuni si spezzano anche in due. La maggior parte dei comuni sceglie di stare dalla parte del papa, dalla parte di Alessandro III contro Federico Barbarossa. Alcuni comuni per convinzione, per fedeltà o per paura invece rimangono appunto fedeli a Federico Barbarossa. L'imperatore reagisce durissimamente. Di tutte queste battaglie vi ne ricordo alcune. Allora, assedio di Crema, assedio di Crema, 1159. La città di Crema, comune ancora oggi, no? La città di Crema verrà distrutta, distrutta. È chiaro? 1162. Assedio di Milano e verranno abbattute tutte le mura e le fortificazioni di Milano. Crema e Milano sono due esempi della forza dell'imperatore, dell'ira dell'imperatore Federico Barbarossa. Sono domande? Prego, vediamo qualcuno. Funziona? È chiaro? Lo scontro? Ok, va bene. Lo scontro si fa ormai scontro militare, si fa guerra guerreggiata. A questo punto, andiamo nell'ultima parte della lezione di stamattina, cosa succede? Succede che alcuni comuni veneti e alcuni comuni lombardi, di fronte alla discesa violenta di Federico Barbarossa, di fronte a queste guerre, alcuni comuni lombardi e alcuni comuni veneti decidono di unirsi in leghe, in leghe, la lega veneta e la lega lombarda. Sembra, chiaramente queste parole oggi hanno ancora significato perché è un partito, la lega veda, la lega lombarda, che è nata poi negli anni Ottanti in Italia, poi è nata la lega nord, poi si è cambiata, è nata la lega di Salvini che non è più una lega legata ai territori, ma la lega lombarda, la lega nord che nasce fino agli anni Ottanta, di Umberto Bossi, Miglio, Maroni, richiamerà poi proprio quest'idea dei vetri dei lombardi, premontesi che sudiscono contro e all'epoca era contro Roma, l'idea della lega contro Roma, contro lo Stato assistenzialista, contro il Sud o meglio contro un'idea di Sud, volevano il federalismo, cioè di fatto trasformare l'Italia in un Stato federale oppure addirittura alcuni volevano l'indipendenza, Lombardia nazione, dal Veneto nazione. Ma andiamo alla storia, vi ho già anticipato poi cosa sarà la lega in ambito politico nata 35-40 anni fa. Cosa accade? Che nasce la lega Veneta e la lega Lombarda, le quali due leghe si uniscono nel 1167 nella lega Lombarda. Due leghe, nasce la lega Lombarda. La lega Lombarda vede addirittura l'appoggio e l'adesione del Papa, Papa leghista, il Papa leghista. Ciao Sofìa, sono ancora in lezione? Non vuoi fare. Eh no, funziona ancora, riprova e rimetto, sto circutiscendo, lo faccio anch'io. Vi stavo dicendo che la lega Lombarda adirisce il Papa, il Papa leghista, ok? Perché si chiamava la lega Lombarda, ovviamente, il Papa leghista. La lega Lombarda arriva alla guerra e uno dei simboli della lega Lombarda è il carroccio, che poi diventa anche il simbolo della lega nord appunto del pretenito italiano, era un carro su cui vierono tutti i vessilli, gli standardi dei vari comuni. Nel 1167 la lega Lombarda nasce e nel 1176 a Legnano questa lega di comuni con tanti soldati, contadini, artigiani, in armi, soldati non di professione ma soldati, uomini comuni, poi sono anche dei mercenari, va bene, sconfiggono l'esercito dell'imperatore Barbarossa. E' sempre meglio mettere i punti su lì, l'esercito di Barbarossa che va alla guerra non vince, ma se l'esercito dell'imperatore, forte, potente, che combatte in Italia non vince, vuol dire che di fatto perde. Non dovete immaginarvi tutti morti, è chiaro, Germania anno zero, la guerra del Vienna, no, guerre durissime, violentissime, alla fine delle quali l'imperatore non riesce a vincere, deve ritirarsi e a quel punto la lega Lombarda riporta un grande risultato, un grande risultato. Sconfitti debbono scappare i tedeschi, sconfitti debbono ritirarsi. Dopo lunghe trattative, lunghe lunghe, nel 1183, nel 1183 si arriva, e sono in conclusione, ancora due minuti, alla pace di Costanza. La pace di Costanza, in base alla quale, ok, Costanza, dovremmo essere una svizzera tedesca, mi sembra, attuale, ok, la qualità tedesca all'epoca, la pace di Costanza, nella quale si stabilisce che cosa? Si stabilisce che i comuni dell'Italia hanno l'autonomia, non l'indipendenza, cioè sono dipendenti dal re, dall'imperatore, dal re d'Italia anche, perché l'imperatore è anche del re d'Italia, dunque dipendono dal re d'Italia, Federico Barbarossa, dipendono dall'imperatore tedesco, Federico Barbarossa, ma hanno l'autonomia e conservano molte regalie. vuol dire che formalmente dipendono, ma materialmente sono autonome, dunque è un grande risultato tenendo conto delle forze in campo, delle forze appunto di partenza. e dunque Barbarossa a quel punto non può fare altro che accettare la situazione, non elegge più antipapi, non sostiene più le fazioni dei papi contro Alessandro III, cerca un accordo ovviamente con la Chiesa e, ed il cerchio si chiude, lo collegate alle altre elezioni, proprio questo suo desiderio, dopo la sconfitta, di ripresentarsi come credibile la religione conta all'epoca, non aver l'appoggio del Papa, scredita Barbarossa rispetto a molti fedeli, perché il mondo contadino, il mondo bottegaio, anche il mondo dei nobili è credente, dunque dopo aver perso contro la lega Lombarda, dopo aver perso Legnano, si arriva la pace di Costanza, ma è ancora indispensabile un salto, ragazzi e ragazzi, è indispensabile riallacciare dei buoni rapporti con il papato, riestornamente presentabile, da punto di vista della cristianità, agli occhi dei fedeli e allora non gli resterà altro che appoggiare addirittura le crociate, non le appoggia soltanto, ma ne parteciperà e come vi dicevo parteciperà alla crociata, parteciperà appunto alla terza crociata e mentre attraversa un fiume dell'Asia minore cadrà da cavallo e annegherà, annegherà Federico Barbarossa, appunto cadendo da cavallo riuscirà appunto, appunto morirà. Finisce dunque un'epoca, un'epoca importante, la quale epoca addirittura ha segnato un altro successo diplomatico, poi finale di Federico Barbarossa, perché non attraverso la forza, ma attraverso gli accordi era riuscito ad ottenere un risultato nell'Italia, perché il matrimonio tra Costanza d'Altavilla, uniche rede del re normanno, non importa ragazzi, poi dimenticate, ma l'uniche rede dei normanni si chiama Costanza d'Altavilla, la figlia, l'uniche rede del re dei normanni che appunto è Guglielmo II, ebbene riesce a far sposare, sono accordi tra potenti, tra nobili, riesce a far sposare Federico Barbarossa, suo figlio Enrico, con Costanza d'Altavilla. E dunque il regno degli svevi e il re dei normanni si uniscono e quell'Italia meridionale, quella Sicilia, quella campagna, quelle terre di Napoli, quelle terre della Puglia, quelle terre dell'Italia del sud, che Federico Barbarossa non era riuscito a conquistare durante la prima spedizione, riuscirà a conquistarle per via diplomatica permettendo il matrimonio, organizzando il matrimonio, realizzando il matrimonio tra suo figlio Enrico, Enrico di Hohenstaufen, ok, e appunto Costanza d'Altavilla. E tutto ciò ottiene la benedizione del papato. Ovviamente come conclusione possiamo dire, facciamo ancora la lezione prima dell'interrogazione, qui vedremo le eresie, che in questo momento se dobbiamo dire tra il papato e l'impero chi è più forte, tra il papo l'imperatore chi è più forte, non vi sono dubbi. Il papato ha acquisito un'autorevolezza, un'autorità, una forza in tutta Europa superiore a quella dell'imperatore.